La maggioranza degli indici azionari asiatici è in ribasso in seguito all'espansione minore delle attese del settore servizi negli Stati Uniti che sottolinea ancora i timori su di un rallentamento della crescita globale. Gli investitori non sono in grado di decidere se prendere posizioni difensive o comprare azioni a prezzi relativamente bassi, mentre lo yen è in apprezzamento nel rapporto con il dollaro e con l'euro. Ce ne parla in collegamento internet da Tokyo Alessandro Libri. Buonasera Luciano, è durato poco l'entusiasmo di investitori sulle borse in asia, le indicazioni dall'industria dei servizi, come dicevi tu, in America confermano il rallentamento e la crescita globale, torna automaticamente a rivalutarsi lo yen giapponese al cambio con le principali divise. E' proprio questa dinamica appesa al principale destino di riferimento a Tokyo, il Nikkei, che chiude in calo dell'1% dopo tre giorni di rialzi con vendite che si sono concentrate sui titoli come Honda tra le case auto, la Sony e la tecnologia ritracciano anche i titoli delle società armatoriali in previsione di un rallentamento del commercio internazionale. Timori che tornano a guidare l'avversione rischio tra gli investitori, 1 yen nuovamente vicino a quota 110 sulla moneta unica, in attesa del dato dalla Germania sugli ordini di fabbrica che potrebbe segnalare una frenata rispetto al ritmo di crescita dei primi mesi dell'anno. Incertezza anche in Cina, Shanghai dopo aver guadagnato il 2% è tornato in territorio negativo per poi riprendersi e chiudere in positivo nella parte finale della seduta. L'indice di riferimento, lo Shenzhen, tuttavia rappresenta il peggiore investimento in Asia avendo perso quasi il 30% da inizio anno. Intanto si prepara al debutto il titolo della Agricultural Bank sulle borse di Hong Kong e di Shanghai. Sì, è l'ultima nelle banche cinesi ad essere quotata in borsa, è la prima per numero di clienti, 320 milioni di correntisti, vale a dire più dell'intera popolazione degli Stati Uniti. Fondata alla fine degli anni 70 da Mao Zedong, Bank of Agriculture, al pari delle altre tre maggiori banche del paese, è stata ricapitalizzata dal governo 12 anni fa e nel 1998 che poi il governo di Pechino appunto ne ha ripulito i bilanci dai crediti inesigibili per poi specializzare la banca nei prestiti alle cooperative con una presenza capillare nel paese, oltre 24 mila filiali. Dalla quotazione inizialmente gli analisti puntavano ad una raccolta di quasi 30 miliardi di dollari, ma la correzione del mercato azionario a Shanghai, a cui ce ne avevamo prima, negli ultimi mesi ne hanno ridimensionato le aspettative. Le azioni di classe A che possono essere acquistate solo dai cittadini cinesi si sono assestate nella parte alta della forchetta di prezzo e le contrattazioni inizieranno a metà mese. Oltre un terzo delle IPO a livello globale quest'anno sono state realizzate in Cina, un segnale di come il paese comunista continui ad esercitare una presenza di primo livello sui mercati finanziari. Luciano. Alessandro, grazie e buona serata. Grazie.